Un saluto a tutti e a tutte da Andrea Cartotto, un nuovo anzi nuovissimo videocorso pensato per presentarvi le altrettanto nuove novità introdotte da Google Meet, perché diciamocelo verso il periodo estivo, l'anno scolastico volge al termine, ma le piattaforme, gli applicativi e la didattica digitale non vanno certamente in vacanza. Dunque, sino al momento dell'accesso, del primo accesso a Meet nulla è cambiato. Per gli alunni, lo ricordo, è assolutamente consigliabile accedere solo da Classroom, per gli altri utilizzi è ovviamente preferibile l'accesso controllato da Google Calendar, è anche possibile, come faccio io ora, accedere al nostro Meet avendo cura di verificare di essere con l'account istituzionale di Google Workspace, quindi quello della scuola, e poi è possibile cliccare comunque su Nuova Riunione e spostando il mio simpatico faccione, cliccare su Avvia una riunione adesso per lanciare rapidamente un Meeting. La grande novità sta nella visualizzazione dal punto di vista estetico. Allora intanto ho risposto il mio faccione per mostrarvi che abbiamo la possibilità tramite questo box, eventualmente richiudibile con X, di verificare quale sia il link esteso eventualmente da diffondere perché altri utenti partecipino, il meet.google.com slash qualche cosa. Il qualche cosa, cioè la parte terminale composta da lettere, è l'ID e l'ID lo abbiamo qui in basso a sinistra insieme all'ora. Poi abbiamo i pulsanti di gestione, i pulsanti di controllo rotondi più piccoli che ora sono tutti al centro e in basso. Se vi ricordate prima a destra avevamo alcune opzioni sotto i tre pallini, anche i tre pallini sono ora al centro, quelli cioè per consultare le opzioni. Il pallino blu in alto a destra indica lo stato di funzionamento del microfono per cui l'onda sonora che vedete muoversi testimonia come in realtà il mio parlato ci sia. Vi anticipo che abbiamo secondo me una gestione un pochino più ordinata per le funzioni rapide perché commento partendo dal basso da sinistra, il pulsante per attivare e disattivare il microfono, quello per attivare e disattivare la camera, il pulsante per attivare automaticamente i sottotitoli durante una sessione, qui su Google Meet, il pulsante per l'alzata di mano, il pulsante per presentare lo schermo e ricordo nulla è cambiato, il pulsante è sempre tripartito. Attenzione bene, per presentare tutto ciò che è risorsa sul web, il libro digitale, un video su YouTube e così via, assolutamente solo la modalità una scheda per mostrare un applicativo esterno avendo cura di aprirlo preferibilmente prima di essere su Meet, un documento di videoscrittura, una scheda in PDF, modalità una finestra. La modalità il tuo schermo intero è quella più invasiva dal punto di vista della privacy tra tutte perché tutte le nostre movenze vengono sempre viste dagli alunni, lo ricordo, ma è quella più a misura di chi si sentisse intimorito e volesse una modalità facile di gestione. Abbiamo poi a destra i tre pallini, altre opzioni che se ricordate erano i tre pallini completamente in basso a destra. In base a quanto abilitato dall'amministratore, lo ricordo, di Google Workspace perché la G Suite con questa denominazione ricordiamo non esiste più, abbiamo sempre il pulsante per avviare una Jamboard, quindi una lavagna internamente a Meet, il pulsante per registrare una riunione, il pulsante modifica layout che evita dunque di installare estensioni di terza parte, cioè non ufficiali Google, che prevede sempre le modalità che conosciamo che sono la modalità automatica, la modalità mosaico e poi il pallino da spostare da sinistra verso destra che continua a mostrarci un numero massimo di utenti pari a 49. Lo andiamo ora a chiudere con la nostra X. Vi faccio anche notare che c'è un avviso del tutto automatico di Google, così importante infatti che vado a cliccare su chiudi, che mi segnala come alcune estensioni da lui rilevate presenti sul mio browser Google Chrome possano eventualmente interferire con la chiamata. Non è una obiezione di rilievo. Andiamo a vedere invece cosa è cambiato e ci potrebbe disorientare di più. I controlli dell'organizzatore, il famoso scudo blu e bianco che eravamo abituati ad utilizzare aprendo la stanza, sono ora tutti a destra, non più a sinistra come prima. Attivando il pulsante controlli dell'organizzatore nulla è cambiato. Vado a spegnere senza dubbio il secondo pulsante in modo tale da prevenire, ed è meglio che curare, eventuali condivisioni schermo improvvise o involontarie da parte degli alunni. Tutto sommato, visto che è nostra poi la gestione della lezione su Meet, lasciamo pure la chat abilitata. Abbiamo cura di cliccare e disattivare quell'interruttore solo addove vi siano abusi, magari nell'uso testuale della chat. Lasciamo pure il pulsante accesso rapido sapendo che andandolo a disabilitare, chiunque non sia invitato al nostro meeting dovrà chiedere di essere ammesso anche se è interno alla scuola, cioè alla organizzazione. Vado a chiudere ora con X. Abbiamo poi il pulsante della chat, chatta con tutti, abbiamo il pulsante mostra tutti che indica e mostra gli utenti che ovviamente prendono parte alla nostra chat con la possibilità, come era prima, di disattivare con un clic l'audio di tutti i partecipanti, funzione che francamente si è attesa per molto tempo su Meet e già dei precedenti aggiornamenti era stata introdotta. Il pulsante con i triangolini, famoso pulsante che si chiama attività, è una sorta di pulsante di sintesi che permette ad esempio con un clic su registrazione di avviare la registrazione, ma in realtà quelle funzionalità sono anche presenti come abbiamo visto sotto i tre pallini, qui in fondo, qui al centro. diciamo che il fondo ovviamente è uno sfondo di primo acchito scuro, i pulsanti come vedete sono pulsanti a contrasto, quindi bianchi su sfondo nero, sotto i tre pallini classici c'è sempre la possibilità di cambiare lo sfondo, sempre scegliendo tra diverse modalità a nostra disposizione, oppure di utilizzare due tipologie di sfocatura, ma ricordo perché spesso mi viene chiesto che uno, gli aggiornamenti alle ultime funzionalità di Google Workspace arrivano gradualmente per tutti. Se la vostra scuola desidera ricevere tra le prime gli aggiornamenti di Google Workspace deve far attivare dall'amministratore di Google Workspace, dalla sua console, la funzione del rilascio immediato. Inoltre vi ricordo che anche la funzione semplicemente della registrazione viene attivata insieme magari ai drive condivisi direttamente dall'amministratore di Google Workspace e un'altra differenza è legata alla presentazione schermo, ma mi spiego meglio. Vado a cliccare, lo vedete, su presenta ora, il nostro classico pulsante. Ora io scelgo la modalità una scheda e vado, guardate, apro una nuova scheda, Google motore di ricerca, avete visto l'ho accostata a MIT, vado a cliccare sul pulsante presenta ora, poi vado su una scheda, scelgo nuova scheda, controllo che sia contrassegnata la casella di controllo, condividi audio, clicco su condividi, in realtà gli alunni ora vedono, lo sapete obbligatoriamente questo, io posso saltare con un clic su MIT per tenere sott'occhio la chat e gli utenti. Ecco, ora io sono da solo, ma il grande cambiamento è legato al fatto che la presentazione dello schermo si colloca ai nostri occhi come anteprima tutta sulla sinistra, qui è al centro perché sono solo, attenzione, i nostri alunni appariranno invece nella modalità griglia tutti sulla destra e ovviamente l'alunno che prenderà la parola avrà il suo riquadro utente che si illuminerà per darci una indicazione visiva insomma su chi sia e poter gestire al meglio la nostra lezione. Altra novità è l'interruttore rapido qui audio della presentazione che con un clic ad esempio in caso di interferenza, anomalia e così via interrompe sì l'audio della presentazione ma non la presentazione stessa. Per interrompere la presentazione stessa debbo cliccare su interrompi presentazione. Nulla cambia all'atto della chiusura della nostra lezione o della nostra conversazione, della nostra riunione su Meet poiché cliccando sulla cornetta rossa avremo sempre i due pulsanti chiudi solo la tua chiamata cioè una uscita o termina la chiamata che di fatto butta fuori tutti i partecipanti ad una sessione Meet. Ecco dunque le novità così riassunte introdotte proprio in questi giorni da Google Meet all'interno di Google Workspace e già ve lo anticipo non escludo ovviamente che di qui a settembre altre novità vengano pian pianino introdotte all'interno dei servizi Google ma questa sarà l'occasione anche per rivederci e per commentarle insieme. Un caro saluto dunque dal vostro Andrea Cartotto e grazie sempre per l'affetto e la stima con cui mi seguite. Ciao!